Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi con mia moglie ci facciamo la prima partita di Assalto Imperiale con l'app Le Leggende dell'Alleanza Quindi questa è la prima vera e propria missione ufficiale tradotta in italiano con l'app Ora vi faccio vedere poi tutto quanto Non è l'avventura che trovate, non è la campagna che trovate nel gioco normale Questa è una nuova campagna creata appunto per l'app Tutta quanta in italiano tradotta, stiamo utilizzando laggiù il telefono di mia moglie Però sia chiaro che tutti gli altri pack che troverete per ora nell'app sono in inglese Li tradurranno piano piano sicuramente Asmode Questa è la prima avventura che è stata fatta e ci vede nei panni mia moglie ha preso Garkhan Ilwuki E io ho preso, lei si chiama Ginodan, praticamente questo è il mio personaggio di partenza Ginodan con le sue caratteristiche, perdonate ragazzi se mi trema la mano, se qualcuno mi vuole regalare uno stabilizzatore E ben accetto E di qua c'è un blaster antiquato alla mia arma Allora nel campo all'inizio abbiamo un droide sonda elite E due droide sonda normali che sarebbero amore qual è? Questa è quella elite E queste sono quelle normali, ci andrebbe messo l'adesivo ma non abbiamo voglia E qui c'è una porta al momento Più, vabbè, qua giù in fondo ci sono tutte le carte che ovviamente nella variante con l'app non vengono usate tutte Quindi dimenticatevele tutto sto casino di carte che avevate nel gioco normale E questo qui, vabbè, è il contatore dei turni e della presenza imperiale sul campo Ma queste cose con l'app le potete direttamente scartare Ora, la storia vede la distruzione della prima morte nera Siamo sul pianeta di Yavin e ovviamente dopo aver distrutto la morte nera Le truppe imperiali hanno fatto l'assalto al pianeta Yavin alle forze ribelli E al momento hanno mandato dei droidi sonda Quindi tutte quante le truppe ribelli si stanno imbarcando da Yavin per scappare E noi siamo la retroguardia che dobbiamo combattere per distruggere i nostri nemici imperiali Ora, inizialmente il gioco ci ha chiesto di fare un tiro Che era un tiro di... bisogna fare prove, vedete, sulla carta Tipo ogni personaggio ha le caratteristiche qui sotto Tipo, vabbè, la forza, osservazione e poi tipo l'ingegno Dobbiamo fare vari tiri perché ha le caratteristiche più alti e poi sommarli Insomma, intanto andiamo avanti nell'avventura Due prove per eroi Due prove per eroi, sì Ah, una cosa che mi ero dimenticato Nell'app, quando giocate con meno di 4 eroi, una cosa bellina Vi dà due turni ciascuno Ricordate il turno è sempre un eroe, imperiale Un eroe, imperiale, alternati Invece che stavolta no, è due turni per l'eroe, uno per l'imperiale Due turni per l'eroe, uno per l'imperiale Perché se no in due, insomma, un ci si potrebbe fa' Iniziamo Allora, te di forza con Garkhan quanto c'hai? Ho tre dadi Ok, quindi la prova fa la te Contano soltanto i fulmini Tira dove si veda Uno blu, uno verde e uno giallo Vai, tira Conta i fulmini È tutto Uno, due, tre Ok, tre Quindi per ora segniamo tre Osservare quanto c'hai Uno solo Io invece ho un blu e un verde Quindi qui tiro io Conta tutti i risultati, eh Quindi un altro fulmine Siamo a quattro E riparazioni ce l'ho meglio io Perché c'ho un blu Un verde e un giallo Quindi questo qui Li ritiro Eravamo a quattro, cinque Quindi sull'app Ora lei va a riportare Che abbiamo fatto cinque risultati Mia moglie Incazzata nera con Garkhan Parte da qua giù Incazzato nero lo carica Ricordiamo che ciascun eroe Quando giocate in due Ha due attivazioni Perché sennò ci spolperebbero dagli schiaffi Fa una carica Col primo attacco lo ferisce Col secondo lo distrugge E ora tocca a me Ah, ha distrutto l'elite L'hai segnato che è distrutto sull'app? Sì, aspetta Faccio che la mia attivazione è stata completata Ok, ora sì Ora attivazione è completata Così ci dirà come muove i mostri Quindi mia moglie ha distrutto l'elite E ora rimangono questi due droidi sonda Che sono questi qua Insomma, quello normale Che c'ha cinque di salute E il dado nero Perché tutto il dado d'attacco Fanno abbastanza male Poi c'hanno anche delle brutte cose Tipo perforanti, recupero E cose del genere Quindi io ora come ora Provo a bersagliare quello Però Qui conto uno, due e tre a distanza Come visuale Vediamo se ci arrivo Passando Sì, ci arrivo Lo vedo Se non te lo vedo Tracciando una linea Così, così Sì, 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 sì Lo vedo Proprio perché sono nell'angolino E siamo a distanza Uno, due e tre A distanza tre Ci posso anche provare Comunque Almeno non mi avvicino Provo a sparare E lei Nell'abilità di sparare Dov'è? Quaggiù Nella sua bella pistolina Tira Due dadi verdi Quindi prendo due dadi verdi Che sono questi qua giù Ragazzi se bala la mano È normale Penso Purtroppo ci sa ancora lo stabilizzatore Comunque il primo attacco Tiro due dadi verdi Che vanno Fanno due ferite Più un fulmine Però arrivano agitata Due Però siccome c'è un fulmine Il blaster Se non erro Col fulmine Può attivare Più uno di precisione Come vedete Quindi praticamente Sarei andato a precisione Più una casella Quindi due non mi bastavano Perché avrei fatto Uno e due Ma col più uno di precisione Arriva a colpirlo Quindi lo colpisco E gli faccio Due danni col blaster Che non sono tantissimi Però loro Che sono quelli normali Hanno diritto A tirare il dado nero Come difesa Quindi tiriamo E Ale Mi solito culo Fa due in difesa Quindi mi assorbe tutti i danni Perfetto Riproviamo col secondo attacco Tanto sto fermo Non mi muovo Riproviamo un'altra volta Questa volta ho fatto Quattro danni E quattro di cittata Tiralo te Vai Per i bossi tiri te Vediamo se Come difende Due Grazie amore Quindi gli ho fatto Due danni A quello laggiù Metteli due danni Sono arrabbiata Allora Gli imprevisti belli Di questi giochi Ragazzi Qui lo dico E qui lo confermo I giochi con app Per me sono i più belli Sulla faccia della terra Io ho distrutto La sonda imperiale Che era laggiù Mia moglie ha distrutto Quell'elite che era lì Ce n'è rimasto un altro Che non abbiamo fatto in tempo A distruggere E ovviamente La sonda Cosa fa imperiale Ha chiamato assistenza E è arrivata Un'altra sonda Quaggiù In più è sceso Uno con l'arma Eweb L'arma pesante Un ufficiale imperiale Un altro ufficiale imperiale laggiù Però da questa porta qui Che è la porta che dobbiamo difendere Che dà verso l'hangar Della ribellione Sono usciti Tre soldati della ribellione Soldati in token Che noi vogliamo assolutamente Fisici in 3D E li compriremo Perché è troppo bello sto gioco Comunque Ora le forze in campo sono Queste qua Artigliere Eweb Che ha 5 ferite E guardatela quanto attacco Poi c'è l'ufficiale imperiale Che anche lui Ciao Fa abbastanza male Poi c'è il droide sonda Però abbiamo anche Soldati ribelli Che ognuno di loro Quanto ha detto che C'ha di velocità 6 Invece che 4 Quindi c'hanno di più 6 punti in movimento E ci aiuteranno a combattere Ovviamente soldati ribelli Che dovremo andare Ad utilizzare noi Quindi Riniziamo un'altra volta Con le nostre azioni Quasi ucciso Dall'attacco di mia moglie Quello con la torretta Che ha Tipo Quante ferite c'ha lì? 4 o 3? Una cosa del genere Vabbè tanto sta per morire Perché ce n'ha 5 Giustamente L'app dice Che lui va a attaccare me Mi spara 2 volte Perché le truppe Sparano una volta soltanto Però quello Vi ricordate Che è un mitragliatore Pesante da postazione Ha attaccato 2 volte E mi ha fatto La bellezza Di 9 punti ferita Quindi il mio personaggio Praticamente Sta già quasi Per girare la scheda La scheda Dal lato ferito Però abbiamo anche Un medpack Direttamente dall'app 2 medpack Quindi ora Vediamo un po' Se lo posso usare Nel caso mi vado a curare Perché direi che Siamo messi abbastanza Usare un medpack Per recuperare 5 punti ferita Ok usalo Quindi la mia prima azione L'ho fatto Recupero 5 punti ferita Di questi Che li tolgo Me ne rimangano 4 E ora Lo vado ad attaccare io Visto che mia moglie È fortunata Tirate i dadi Tanto comunque Sono a distanza 1, 2 e 3 Da lui Io attacco Con 2 verdi Ok Che si vedono Quanto è Mettere vicini No aspetta Ho sbagliato Eh merda L'ho già attivata Ok Quindi a distanza 4 e ho fatto 3 ferite Più un fulmine E il primo fulmine Che vedete Sulla carta Il primo fulmine Mi attiva Un danno Quindi i danni Gli hanno fatti 4 Tira per la sua difesa Di lui Che tira il dado Nero Vediamo un po' Sì tira il dado Nero Quanti danni Gli avevo fatto Si era detto 4 Meno 1 3 Morto Vai Quindi quello schifo Lì con la torretta Si è preso Un colpo del mio blaster Non è che bella la miniatura No ragazzi Sono Guardate qua Sono bellissime Porco mondo L'hanno detto Questo e il rebellion Sono i giochi definitivi Per Star Wars Distrutti Mia moglie Incazzata nera Ha caricato L'ufficiale imperiale Che era tipo lì L'ha ammazzato L'ha ammazzato Su un singolo colpo Quindi ha potuto Continuare il movimento Ed è andato a ingaggiare Questo droide sonda Che correggiamo Quello detto prima È un elite Quindi è più forte Rimane questo droide sonda Con un solo punto ferita Che sto combattendo io Qui davanti Laggiù c'è un altro Ufficiale imperiale E tra l'altro I ribelli Si stanno spostando Questo ribelle Ha sparato al droide sonda Lì e gli ha fatto una ferita Questo ribelle Sta cercando di Prendere alle spalle La sonda E quell'altro laggiù Lo stiamo mandando invece Verso il soldato imperiale E io Ho sprecato anche il secondo Kit Quindi c'avevo più kit di cura Perché mi stavano Praticamente per Massacrare di botte Comunque uno Sta andando male per mente La situazione si complica Arrivato anche da qua giù Un assaltatore imperiale Che ora Vuole ammazzare Questo ribelle qui Mia moglie Sta per distruggere Il droide sonda Io ho distrutto Il droide sonda Che avevo davanti Ho provato a sparare All'ufficiale imperiale Ma non ci sono nemmeno Arrivata come gittata E questo ufficiale imperiale Ha attaccato Questo NPC Qui della ribellione Ci hanno chiamati via radio E ci hanno detto Che ci sono altre 4 navette Da sbarco Che stanno tirando su Ovviamente i ribelli Per portarli via Da Yavin E quindi direggere ancora Un po' l'assalto Quindi penso che Ci sarà ancora un po' Ora Il soldato Della ribellione Attacca l'ufficiale Vai tira dadi Che si vedano Quindi ha fatto Un danno Un danno E tre fulmini Quindi ha fatto Un danno E tre fulmini Che il primo è perforante Quindi uno non lo para Più uno precisione Che non ci serve a niente Quindi ha fatto un danno Che leverà uno scudo All'ufficiale imperiale Che però tira un dado bianco Quindi tira il dado bianco Per l'ufficiale imperiale Che ha fatto Annulla un fulmine Eh Il problema è che Ti ha annullato un fulmine Quindi Il problema è che Non ha fatto nessun danno E poi Ti ha assorbito una ferita Quindi non gli ha fatto Praticamente niente Bello Merda Vai di racconta Che succede Hanno praticamente Sbloccato questa porta Perché loro hanno Tolto tutta la roba da qui E intanto hanno chiuso Questa porta qua Però intanto hanno aperto Questa zona qui Capito Mancano ancora Tre trasporti Però ci hanno aperto Questa stanza E lì ci sono due casse Quindi io direi che Sarebbe bene andare a lutare Magari uno trova qualche arma E però per ora Siamo messi bene È arrivato un nuovo imperiale Un nuovo ufficiale imperiale Quaggiù Questo stronzaccio Maledetto Che mi vuole fare La pelle Mentre invece Quaggiù mia moglie Sta per distruggere I droide sonda Però ricordo che Essere un elite Quindi c'è ancora un bel po' Di punti ferita E nel frattempo Qui è arrivato Un altro soldato imperiale Io direi che Io direi che questo turno Ormai l'abbiamo speso Per combattere Prossimo turno Useremo qualche punto Fatica Per ripiegare Verso quella zona laggiù E andare a vedere Cosa c'è dentro le casse Perché Possiamo reggere Secondo me Ma iniziamo anche Essere un po' feriti Quindi È bene non giocare Troppo con la sorte L'assaltatore imperiale Spara al nostro soldato ribelle Ferito E l'ammazza Sul colpo C'è soltanto Nella serie televisione Nella serie Scusate Nei film Non hanno mira I soldati imperiali Sono smirati Nel gioco Ti ammazzano Come sparano Comunque Per il resto Abbiamo pulito tutto Quindi per ora Non c'è più niente C'è rimasto soltanto lui E poi Proveremo a scappare Laggiù dentro Allora Abbiamo retto Egregiamente Io sono scappato dentro Ho preso la cassa Ho trovato un medikit Quindi è cosa buona e giusta E mia moglie Lì con una squadra Di assaltatori imperiali E un nuovo ufficiale Di qua c'è rimasto qualcuno Sì è arrivato Una mitragliatrice E web Ovviamente a romperci i coglioni E abbiamo sentito Un respiro nella forza Narra mio amore Non è da rire Tra il fumo e la foschia Delle rafiche di blaster Scorgetto Una figura alta Oscura Imponente Che avanza a grandi passi Fuori dalla giungla Ragazzi Ora C'ha la spada Che è un attimino preso vento C'è da rimettere la dritta È arrivato È arrivato Darth Vader In campo Aspetta Poi fa Soltanto quando una lama Rossa e lucente Compare da nulla Capite che un signore oscuro Dei siti è arrivato Sapete che non avete Nessuna speranza Speranza di uccidere Darth Vader Ah Schierare Darth Vader Eh Darth Vader Non può essere sconfitto Grazie a cazzo Non può essere sconfitto Non può essere sconfitto Ragazzi 16 di vita 4 di velocità 2 dadi neri di difesa 2 dadi rossi di attacco E 1 giallo Più tutte le abilità speciali Anche se la mia spada Ha preso il vento Amore Scappiamo Va bene Diretta Diretta a me No vabbè Amore Ma cos'è Darth Vader Signore oscuro de siti Ci attacca il ribelle Tira 2 dadi rossi E 1 giallo E fa la bellezza di Allora 2 5 Più 2 fulmini 2 fulmini Che col primo Fa perforante Perforante 3 Amore C'ha un danno in più anche Perforante Allora Quanti danni ha fatto 5 5 6 7 Più perforante 3 Tira per il ribelle Però tanto Vai Tira il dado bianco Per Cosa Schivato tutto No ragazzi Ha schivato il ribelle Ha schivato tutto Ha schivato tutto L'attacco di Darth Vader Cioè Che culo Si è salvo Fai conto Che è una bambina Davanti a un idol Cosa c'entra Cioè Questo qui Si è scavato La fossa Con la palla Di minecraft Praticamente Per scappare Da Darth Vader Cioè Ha schivato tutto Il colpo Teneremo di conto Stiamo boni Il soldato ribelle È sopravvissuto A un attacco Del signore de siti Gli ha fatto barbe e capelli No Chi ci sono Due soldati Ti rivedi qua Che stanno sparando Oppure si stanno cagando In mano Perché c'è Darth Vader Che stanno Che stavano male No Noi Che siamo Cioè Walkie Grande e grosso Due metri Che si sta Cagando addosso Per Darth Vader Che lo sto nascondendo Dentro della scatola Fai te Allora Questo per farvi capire Che noi siamo coraggiosi Come saggiamente Vi ha detto mia moglie Oh però Per ora si è ammazzato Tutta quella roba lì Non è che si fa Pizze e fichi E' arrivato Darth Vader Che tra l'altro Non solo è potentissimo E c'ha più una danno Ma è anche immortale Cioè quindi anche se lo uccidi Non lo puoi uccidere Quindi siamo scappati E abbiamo lasciato I due soldati ribelli A difenderci sul portone Che stanno venendo Mazzolati dalla squadra Dei assaltatori imperiali E poi Dalla mitragliatrice Iweb E dall'ufficiale imperiale E noi siamo scappati dentro Ho capito no? Non siamo mica eroi Della ribellione noi Ho capito no? Guarda mia moglie Lì dietro alla scatola Sai che è nascosta Che codarda Dio E mia moglie Il Wookie Mi faccio vedere un attimo Sembo Jar Jar Minks Mi scappa da Boss Nass Guarda là Questi sono arrivati In un'altra squadra Di assaltatori Che tanto hanno Una mira di merda Ma non in questo gioco Più la mitragliatrice Iweb Più una sonda imperiale Più un'altra sonda Più Darth Vader Più un ufficiale imperiale Più Insomma Ci manca la zia e la nonna Sì infatti La zia e la nonna Poi tra l'altro Quel poveraccio Che era qui E' stata abbattuta Dalla squadra di imperiali Quest'altro sta per morire Darth Vader C'ha la spada Piegata dal vento E quindi è particolarmente Incazzato E mia moglie Direi che insomma Quella porticina lì Si può aprire vero Con l'app Levarci dei coglioni Oddio Sta arrivando anche Uno Star Destroyer Bene Due Due Allora Perché sono molto coraggioso Faccio Che questa qui Vabbè sarebbe una casella Libera Perché ci si è messo Punti ferita Faccio uno due Così sono agitata Uno due Da questo qui Da questo maledetto E prova a fare fuoco Il problema è che mi sono mosso E posso sparare una volta sola Va bene Decida il portatore dell'anello Tira due dadi verdi Che si vedano per me Che è la mia pistolina Quindi ho fatto Bravo amore Ho fatto tre danni Più il quarto Che Scusa Scusa Il fulmine Che aggiunge un danno in più Quindi gli ho fatto quattro danni Ora tira per la L'armatura Lascia quello nero L'assaltatore imperiale Quattro danni Vabbè Io do e poi tolgo Disinstallo Darth Vader si avvicina E dentro la linea di vista Ragazzi Linea di vista Potrebbe essere tutto il campo Usa l'abilità strangolamento Che da carta L'abilità strangolamento Fa automaticamente Due danni Che non possono essere ovviamente Assorbiti dall'armatura E un segnalino a fatica Quindi Il povero soldato ribelle Che era scampato a tante guerre Viene strangolato Da Darth Vader Lei mi ha deluso Per l'ultima volta Strozo Quanto vi dico Missione conclusa Con successo Carte classe Da un punto esperienza Sbloccate Quindi ricordiamo Solo che bisogna prendere Quelle da un punto esperienza No Che praticamente Le carte di classe Sono queste qua giù Vedete Garkhan E il mio E quelle da un punto esperienza Ovviamente c'è scritto In fondo Quindi quelle da un punto esperienza Ne possiamo prendere Una di queste qui Che sono Abilità che potremmo usare Allora guardate il casino Che c'è qua giù Tutti i ribelli uccisi I soldati Giustamente Gli assaltatori imperiali Che si avvicinano Squadra A Squadra B Torretta e Web Poi qua giù vedete Un ufficiale imperiale Un altro ufficiale imperiale Un droide sonda Non c'è nessun elite A parte Darth Vader E un altro droide sonda Il signore oscuro Dei Sith Qua giù in fondo E io ero dietro l'angolo Per non farmi fare Il grip Da Darth Vader E qui c'è mia moglie Che ha subito Tra l'altro Tre ferite Laggiù in fondo Da Questo assaltatore imperiale Qui bastardo Che aveva linea di visuale E gli ha sparato La prima missione Siamo salvati Praticamente questa porta Si è aperta Siamo scappati a bordo Del Freedom Fighter Del Freedom Fighter Che sono partiti Tutti quanti insieme E appena usciti Dall'atmosfera di Yavin 4 La luna di Yavin C'era un incrociatore Uno Star Destroyer Imperiale Che ha preso di mira Uno dei nostri trasporti Di fuga L'ha distrutto Però noi siamo riusciti A salvarci Quindi tutti quegli altri Abbiamo fatto il salto Nell'iperspazio Quindi la prima missione È finita Cioè guardatela Vi immaginate Se bisognava resistere Anche soltanto Un altro turno Oh però Ce l'abbiamo fatta Quindi GG Complimenti E ci vediamo Alla prossima missione Ricordo Che questa è la prima missione Non del gioco base Quindi non Di questo manuale Quaggiù Che vi faccio vedere Non del manuale Della campagna Del gioco di base Ma è il primo È la prima missione Dell'app Legends of the Alliance Veramente bello Voto amore 10 Già ragazzi Se era bello normale Il gioco base Però ora giocarlo Tutto in cooperativa È veramente qualcosa Di mostruoso 10 10 Alla prossima